Oggi affrontiamo la forza che accomuna le bolle di sapone, gli archetti del vino e la capillarità. Questa grandezza è la tensione superficiale. La tensione superficiale tende come una membrana elastica alla superficie dei fluidi ed è generata dall'attrazione reciproca delle molecole che compongono la sostanza in esame. La tensione superficiale si può misurare con uno strumento, detto tensiometro, che può essere costruito facilmente in casa. Dobbiamo costruire una bilancia a bracci uguali. Innanzitutto prendiamo una cannuccia e la trafiggiamo con uno spillo al suo centro. Come piedistallo per la bilancia usiamo un bicchiere di plastica capovolto a cui attacchiamo due graffette in modo verticale aiutandoci con dello scotch. Le graffette vanno piegate alle loro estremità a V per ospitare lo spillo che fungerà da fulcro. Alle due estremità della cannuccia vanno legati dei fili da cucito. Ad un'estremità sarà appeso uno spillo e all'altra un piccolo cestino di carta per reggere i contrapesi. Lo spillo deve essere legato al suo centro e deve essere orizzontale. Sia lo spillo che il cestino di carta devono essere sollevati da terra in modo da permettere il movimento della bilancia. La cannuccia dovrà rimanere orizzontale. Per bilanciare il tutto ci aiutiamo con dei pezzi di scotch sulle due estremità della cannuccia. Per misurare la tensione superficiale di un campione, nel nostro caso acqua di rubinetto, abbiamo bisogno di un bicchiere con l'acqua che deve avere lo stesso livello dell'altezza del lago, dei chicchi di riso o dei granelli di sabbia che fungeranno da pesetti, un paio di pinze e il tensiometro autocostruito. Innanzitutto poniamo l'ago sulla superficie del fluido. Ora aggiungiamo i chicchi di riso aiutandoci con un paio di pinzette nel cestino di carta. Durante questa fase l'aggiunta va fatta in modo delicato. Grazie a tutti! Man mano che abbiamo aggiunto i chicchi di riso sul cestino del tensiometro, il fluido ha trattenuto sulla superficie lo spillo. Raggiunto una massa critica superiore alla tensione superficiale del fluido, l'ago si è staccato dalla superficie del fluido e ha fatto cadere i pesetti. Contando il numero di pesetti si può calcolare la tensione superficiale del fluido. Se all'acqua aggiungiamo del sapone o aumentiamo la temperatura notiamo la diminuzione della tensione superficiale e quindi un numero inferiore di pesetti nel cestino. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Per verificare la direzione su cui agisce la tensione superficiale dei fluidi abbiamo bisogno di una bacinella con dell'acqua e sapone, uno stuzzicadenti, del filo di cotone e una cornice di fil di ferro. Prendiamo un filo da cucito e leghiamolo per formare un anello. immergiamo la cornice in acqua e sapone facendo formare una membrana. Bagniamo l'anello in acqua e sapone, sospendiamolo all'interno della cornice. Bucchiamo con l'aiuto di uno stuzzicadenti la membrana all'interno del filo di cotone. Questo formerà un cerchio perfetto perché la tensione superficiale agisce in modo uguale in tutte le direzioni e in maniera tangenziale alla superficie del fluido. Prendiamo l'anello in acqua e sapone facendo formare un'acqua. L'effetto marangoni è il responsabile della formazione degli archetti del vino sulle pareti dei bicchieri. In particolare è il trasferimento di materia lungo una superficie dovuto a un gradiente di tensione superficiale. Il fluido con più alta tensione superficiale attrae a sé con più forza il fluido circostante. Perciò in regioni con bassa tensione superficiale il fluido scorre via. Per verificare l'effetto marangoni abbiamo bisogno di un piattino con del latte, del colorante alimentare, del sapone per i piatti e uno stuzzicadenti. Poniamo qualche goccia di colorante al centro del piattino sulla superficie del latte. Con la punta dello stuzzicadenti sporco di sapone pungiamo al centro della macchia. Dato che la tensione superficiale al centro del latte è stata ridotta dal sapone, la superficie viene allungata verso l'esterno soggetta all'effetto marangoni. Ciò viene evidenziato da un chiaro spostamento del colorante sulla superficie. Un altro modo per verificare l'effetto marangoni è quello di costruire una piccola barchetta a reazione. Per questo abbiamo bisogno di un foglietto di carta, un paio di forbici e una vaschetta contenente dell'acqua. Tagliamo il foglietto di carta a forma di barchetta e con le forbici pratichiamo un'incisione a forma di canale che parte dal centro della barchetta e finisce alla base. Con delicatezza appoggiamo la barchetta sulla superficie dell'acqua e aiutandoci con uno stuzzicadenti facciamo cadere una goccia di sapone per i piatti al centro del canale. Come potete vedere la barchetta è stata spinta in avanti per effetto marangoni. La bolla di sapone è uno strato sottile di acqua e sapone ma racchiude in sé una miriade di misteri matematici, fisici e chimici. Le bolle di sapone sono degli esempi concreti di complessi problemi matematici di minimizzazione delle superfici. Una delle leggi che regola la formazione delle bolle di sapone è la legge di Laplace. Questa legge lega la pressione interna di una bolla con il suo raggio. In particolare afferma che la pressione aumenta al diminuire del raggio. Per verificare questa legge abbiamo bisogno di unire due bolle di sapone insieme tramite un tubo a T che in questo caso può essere fatto o con delle cannucce o tramite dei tubi di gomma e dei pezzi di vetreria. Le due bolle si formeranno alle due estremità del giunto a T, in questo caso sulle due pipette da vetreria, e nella terza via del giunto verrà insufflata dell'aria per gonfiare le due bolle. Una volta formate due bolle di grandezza differente tramite della soluzione di acqua e sapone, andremo a chiudere l'entrata in modo da collegare permanentemente le due bolle. Le due bolle saranno a contatto come due vasi comunicanti, perciò ci aspetteremo che l'aria passi da quella più grande alla più piccola fino ad equilibrare il sistema formando due bolle della stessa dimensione. In realtà la bolla più piccola si rimpicciolirà ancora di più confiando quella più grande. Questa avviene perché la pressione nella bolla più piccola è maggiore di quella nella bolla più grande e l'aria si sposta nella bolla con pressione inferiore. Con questo abbiamo finito. A presto e buon lavoro!